Film, cibo, diari e convegni. È il mondo del viaggio a 360 gradi, quello che va in scena a Genova dal 30 aprile al 4 maggio con il festival Viaggiando il mondo. Cinque le aree tematiche della manifestazione. Si parte da paesi e regioni per esplorare poi il viaggio al femminile, quello attraverso i cinque sensi, le avventure per mare, per arrivare infine alla sezione Viaggiando in rete. Oltre 50 gli eventi in programma tra proiezioni, degustazioni e conferenze.